La preoccupante carenza di medici sul territorio marchigiano ha imposto un intervento concreto e tempestivo al fine di garantire la tenuta del sistema sanitario regionale. Questa mattina ho sollecitato il presidente Laran ad avviare il tavolo per rivedere i trattamenti e alcune prestazioni, tipo quelle notturne, festive, quelle dei pronti soccorsi del 118, perché la scarsa appetibilità di queste specializzazioni può comportare anche il fatto che non vi siano adesioni a questi trattamenti previsti con le borse di specializzazione. Questo piano garantisce che nei prossimi anni la nostra regione possa superare le criticità che abbiamo trovato per la scarsa programmazione passata, quindi siamo certi e sicuri che dal prossimo anno noi avremo i medici del primo anno di specializzazione in grado di lavorare sul territorio, negli ospedali e così via. E quindi questo è un'inversione di tendenza totale. Vero è però che dobbiamo arrivare a questo traguardo che arriverà fra un anno e un anno e mezzo, il che significa che le criticità che stiamo avvertendo sul territorio, l'affollamento nei pronti soccorsi, la scherzità dei pediatri e così via, è una lacuna che dobbiamo affrontare e stiamo cercando di affrontare con i provvedimenti che abbiamo adottato in questi giorni. Quello della regione Marche è un intervento che prevede un incremento delle borse di studio per i medici di medicina generale e dei contratti di formazione per medici specialisti per un costo complessivo di circa 7 milioni di euro, volto dunque al potenziamento del sistema sanitario favorendo un adeguato ricambio generazionale. Con questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere. È chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno, ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale. Si dà inizio da quest'oggi e per i prossimi anni in una fase dove recupereremo inserendo nel circuito della nostra sanità vicine di medici ogni anno che ci consentiranno di recuperare quel rapporto col territorio e ci consentiranno di dare le risposte ai servizi. Le borse vengono finanziate dal Ministero ma le regioni possono aumentare questi finanziamenti e quindi accresce il numero di borse. Attualmente i dati del Ministero parlano per il nostro Ateneo di 901 borse e sono ancora in atto le iscrizioni, ma per la prima volta la Regione ha aggiunto un numero molto consistente, passando dalle 5, 4, 6 borse annuali a 42 borse, proprio perché offriamo in questo modo nuove opportunità anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti diventati medici. Quindi credo che si tratti di una risposta alle nostre comunità, ai nostri territori e a questa esigenza di salute sempre più forte. Mancano i medici e dobbiamo intervenire.